C'è una prova di fogo, anche perché tutte le due squadre vogliono stare in Serie B e arrivare in primo posto. Secondo me se facciamo bene l'elemento, certamente siamo preparati ad andare in Serie B, se no dobbiamo stare per il play-off, questo è il mio pensiero. Vedendo la settantesima o la tantesima non c'è niente, io ti ho detto metterei la firma anche per un pareggio e vediamo di andare in play-off. Io ho voglia di giocare anche perché sono queste partite che tutti vanno a vedere, è una partita così che diventa un giocatore vero, io vedo come questa partita è una partita della mia vita se gioco. No, sono contento sinceramente, avevo detto già dopo la partita, la gioia personale può arrivare, può aspettare. Io sono contento se la squadra vince e facciamo bene. È più bella, più emozionante, sì, è un motivo in più per fare bene. A me piace tanto giocare così, ma spero che venga adesso a fare una fine. Io sinceramente sono stato molto contento, per dire tante persone in più che sono venuti allo stadio. Parlo personale, secondo me è una carica in più, lo stadio con persone che vengono a vederci in più, secondo me possiamo fare bene, possiamo dire la nostra in casa.